Sono Roberto Giuliani, il Presidente dell'Associazione Internazionale Galleria Collezionista di Roma e siamo molto lievi di presentare con questi nostri artisti questo splendido museo e ringraziamo il Presidente e la Dottoressa Mattaus per aver ospitato i nostri artisti e ripeto in questo museo molto importante. Sono artisti che noi abbiamo selezionato sul 950, abbiamo scelto questi 15 che sono quelli che noi riteniamo i più significativi dell'arte contemporanea. Sono artisti sia italiani che stranieri, ringraziamo nuovamente di aver ospitato le opere dei nostri autori.